Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo un città. Sempre di più è insieme, è importante perché quando si è insieme gli altri sono più deboli, se si è da soli siamo noi ad essere deboli e quindi non abbandonateci, noi non si abbandoneremo. Ora si allostaneremo, ognuno andrà nelle proprie case, noi andremo in consiglio perché questa serata è una serata come tanti altri giovedì, di sedute di consiglio e abbiamo deciso di fare questa iniziativa proprio il giovedì perché è terminata questa iniziativa, questa manifestazione così forte, le attività poi andranno avanti all'interno del consiglio. E' anche questo un modo per dire che noi non ci fermeremo, le nostre attività all'interno dell'aula consigliare proseguiranno e non ci faremo mai mettere in ginocchio da persone che pensano di poter conquistare i territori, il territorio, la zona, i quartieri e la città in questo modo. Grazie e insieme si può!